Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze per lavori è chiuso il tratto tra lo svincolo di Livorno Aurelia e il Bivio per la 12. Per i lavori di sicurezza sul viadotto del Turbone possibili disagi in entrambe le direzioni tra Montelufo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 302 Brisighellese Ravennate senza unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 13 nel comune di Fiesole. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!